Sono Alexis Tsipras, sono il candidato della sinistra europea e vengo dalla Grecia, dal paese che la leadership europea ha scelto per applicare l'austerità più forte, i risultati di questa austerità, veramente spero che non le viva nessun altro popolo in Europa. Quindi voglio usare questa occasione per dire agli altri candidati, specialmente a quelli che rappresentano i partiti che hanno sostenuto queste politiche e li domando, quello che è successo in Grecia è una storia che deve ripetersi perché è stato un successo, ma è una tragedia di tutta la società che non deve ripetersi in nessun altro paese europeo. Chiediamo a tutti i cittadini, sia del sud che del nord, di sostenere i partiti della sinistra per fermare questa politica di distruzione dell'austerità, per avere di nuovo la democrazia in Europa e ritrovare le vere cose che hanno fondato l'Europa, la democrazia, la solidarietà e la coesione sociale.